salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono dragon rex e siamo qui a un nuovo episodio di star wars jd fallen order adesso proviamo a fare una cosa perché sinceramente lo volevo provare e andiamo di qua vediamo un po perché probabilmente ci siamo un po troppo dilungati vediamo un po di allora che se io provo a fare che succede se ok ok quindi continuo a girare io faccio un'altra cosa perché su questa strada ok ok aiaia c'era qualcosa lì dove sono capitato qua ok ok scusate quindi riproviamoci e no siamo ricaduti però penso che si possa andare comunque di là comunque di là riproviamoci ok 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 proviamoci meglio e niente siamo caduti ancora però ci sono ostinato quindi cercheremo di di tornarci allora ci proviamo voglio andare lì e quindi eh che cavolo vabbè ci proviamo ugualmente ecco qua però vai dritto eh eh niente da fare niente da fare niente da fare riproviamo e io so cocciuto ci provo quando no cavolo di poco sembrerebbe facile ma poi in realtà non è così non è così altro tentativo ma perché adesso con la corda è così vabbè eccoci ce l'abbiamo fatta finalmente ok prendiamoci questo eco qualcuno l'ha distrutto di proposito percepisco il rancore nell'atto ok ok perfetto adesso voglio fare un'altra cosa vediamo se ci riusciamo vediamo se ci sta aggirando sempre così eccolo ok ok vola di là mi ha fregato la vabbè ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta perfetto quindi di qua mi ricordo che siamo venuti quindi ok adesso perfetto gli zofo andarono su Kashyyyk Cordova ha parlato di un certo Tarful ah un capo tribù uki erano vecchi amici credi sia ancora vivo c'è solo un modo per saperlo dobbiamo andare su Kashyyyk abbiamo preso anche un trofeo ok adesso speriamo di uscire subito da questa tomba ci siamo passati un po' troppo tempo anche abbiamo un'abilità nuova che è la spinta ok e siamo arrivati ci abbiamo il punto di meditazione e noi meditiamo perfetto non abbiamo punti abilità però riposiamo e salviamo così da questo punto abbiamo appena spianato la strada all'impero eh sì sono tutti qua sarà una bella sfida ok andiamo va cazzo attenzione è stato colpito eh sono tutti impatto sul bersaglio è piuttosto veloce a schivare puntamento presto abbacchiamolo presto aiuto aia un colpo è per te è finita devo ucciderlo non c'ho più cose ok ok è rimasto solo lui è rimasto solo lui ci vorrà un attimo ok ho molti tutti però lo so faccio una fesseria ma lo devo fare meditiamo mi sembra che c'ho un punto abilità sì quindi punto abilità quindi vediamo un po' recupero della forza migliorato spinta di massa però a questo punto io direi che mi servirebbe a fondo questo pendente fulminio eh questa sarebbe utile mantini r2 ne prendiamo questa riposiamo così recuperiamo un po' le forze allora non li affronto vediamo se vado bene sì wow dove sono mi sa che devo affrontarli ugualmente qua c'è un eco cosa è questo continuare a scavare voglio manufatti rara non gingilli inutili se vado di qua no torno di là questa non si può aprire no no quindi in pratica devo andare a ver a ver no 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 La dove si va qua? Ok Ok E qua dove sono? Non so dove si va da qua. Qua c'è qualcosa. Che spreco di tempo, a che gioco sta giocando Cray? Impossibile che qui ci sia qualcosa di utile. Ok E la si scivola quindi non penso di poter riuscire ad andare. Non, non, ahia. Torniamo su. Ok Wow Qualcosa di utile? Ah, nuova veniciatura. C'è nient'altro? Ok Ok Proviamo ad andare di qua Ok 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 la in basso lascia che me ne occupi attacco ce l'abbiamo ci sono altri ok mannaggia volevo prendere quello ok prendiamo un po' le attrezzature ok ok c'è qualcosa sopra se lo sbaglio no quindi questi li abbiamo uccisi tutti dove andiamo qua c'è qualcosa c'è una cosa che avevo trovato qua dentro ho una strana sensazione gli antichi zeffo si riunivano qui chissà perché è qui che Ok. Allora, lì c'è qualcosa. Ah, ok. Ehi, quelli si autodistruggano. No, no. Non c'è nulla qua. Sempre più in alto. Allora, io in teoria sono arrivato da qui. Qua mi dice, è inesplorato. Allora. 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 Andiamo. Andiamo con lo scivolo. Scivola, scivola. Wow. Giva. Giva. Eh, no. Vabbè. Ok. Caverne di ghiaccio. Interessante. Dove siamo? Ok. Siamo in una caverna qui. Oh, cazzo. Spero che ci porti su. Dove andiamo? Dove andiamo? Siamo arrivati? Oh. Dove cavolo? Dove cavolo? Sì. No. Io voglio riscendere, però. Ci puoi far scendere di nuovo? Vabbè. Dobbiamo rifare la discesa di qua, quindi. No. No. Dove vai? Dove cavolo? No. Perché non ha preso la codicella? Ok. Sì, l'ascensore ce l'abbiamo. Io direi che... Per questo episodio... Ci fermiamo qui. Facciamo una buona meditazione. E quindi niente, ragazzi. Riposiamo. E ci fermiamo qui in questo episodio. Siamo usciti dalla tomba. Adesso siamo in questa caverna. E proseguiremo il nostro cammino. Per aggiungere... Per ritornare alla Mantis. Quindi... Grazie a tutti per aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like. Iscrivetevi al canale. E quindi... Buon Dì a tutti. Sì. Sì. Ciao, amiamo. Sì. Ciao, amiamo. Ciao. Grazie a tutti.